Ehi tu, sì dico a te, vorresti vincere questi e tanti altri premi? Allora iscriviti subito al mio canale, segui i miei video perché al raggiungimento dei primi 250 iscritti partirai il primo dei tanti concorsi a premi che organizzerò proprio su questo canale. Allora che aspetti? Non lasciarti scappare questa bellissima possibilità, non ti costa nulla. Iscriviti al mio canale e ci vediamo dall'altra parte! Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di 7 Days to Die, sempre in compagnia di Rocky. Ciao Belly! Ma ok, vedrai questa registrazione che ho fatto, dove sono andato, che bel posto! Allora, vediamo. Eh, tu quando vedrai la mia invece, vedrai l'orso contro due zombie. Allora, vediamo, scendiamo da questa parte. Però sotto sta l'orso pronto per uccidere me. Quindi è meglio andare premuniti di, diciamo, di niente perché non ho niente con cui posso difendermi. Oh, una mina, malonna, meno male che l'ho vista. E devo andare assolutamente giù. Allora, lo vedi l'orso? Solo che non può venire qui, sta uccidendo altri zombie. Cioè, sta proprio nell'entrata, eh! Vediamo se io posso uscire da questa parte. Oddio! Polizia! Ciao! Ho ucciso il poliziotto. Vai, osco da quest'altra parte. Mamma mia, c'è qui un bordello giapponese. L'orso da una parte, io sto cercando di andare da un'altra uscita. Io ci parlo con un'altra cosa si porta. È proprio una pidocchio. Vediamo, qui si apre. No, la apro io. C'è qualcosa qui da sgraffinare. No, ci sono solo zombie da uccidere. Cacchio, c'è un cane. E' un falso specchio. Che mettono a fare le scali in questa... Chi è? C'è un lupo? Guarda, già lo vedi il lupo. E vai, l'ho cesso da dentro la porta! Quella aveva gli scemi degli zambi, sono esplodosi. Mamma mia, quanti ce ne sono, quanti ce ne sono. E in tutto questo io non ho... Cioè, non sono riuscito a fare la missione perché non ho attivato la missione. Eh, vabbè. Quindi io me ne andrò perché sono ultra pieno. E poi ritorno. Vediamo, in questa casaforte a muro che c'è... Ho 67 munizioni MM, 7,62. 576 banconote, ottimo. Questo te lo puoi ficcare qui. Ma che cos'è questo generatore? Ah, questo sarà il generatore della missione. Però non lo posso attivare perché è tardi. E vai, altri due. Mamma mia! Quante scatole qui ci sono! E poi a saper ritornare qui. E vai, l'altro due ho fatto di pistola. Aiuto, quanti cacchie ne sono! Mamma mia, una decina di zombie. Prenditi la pillola di nuovo. Bevi e mangio come un porco. Mamma mia, devo rischiare sempre la vita in questa missione. Mangia, mangia, bello, mangia. Che altro ti puoi curare? Andiamo a guardare. Adesso sono pieno, vediamo se mi possono. Sì, un crocchetto di quarto livello. Ma vabbè, lo prendo così te lo do a te. faccia lo stesso sta proprio pieno qui oh cassetta di pronto soccorso fammela mettere qui questa non è una mission qualcuno è morto capo da tennis spero di non capitare vicino all'orso è una moto mia di quest'oro e anche dove va? ho la palestra senza munizione e la mazza ho la pistola da riportare no No esce esce stronzo un coniglio ma non lo vedi l'orso e sta uno che mi sta portando un sacco due orsi ma le vedi le frecce ok ho trovato il 72 munizioni se vabbè ma è proprio fortunato questa parte due orsi tutti e due vicini venite venite però ho trovato 72 munizioni no 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 la palestra parca miseria non ti muovere un gioco come fa Daryl a non morire ah però posso uccidere il coniglio chi è? allora se ne sono un pochettino più andati quindi forse forse ce la faccio però devo eliminare qualche cosa questo cemento te lo puoi prendere questi li puoi distruggere ok sì ma così che sto 10.000 eh senza trivella adesso scappa due orsi mamma mia sai quanta carne che ci facevamo però io sono infetto ho la mano tagliata ho sete vabbè la sete c'ho l'acqua e sono super carico sia la moto che ci avevamo il drone allora ci poteva portare il pochettino il drone ti può portare le armi aria aria no pochettino no pochettino eh ah ma dove sopra la mini sono andato ma affatto che è andato no pochettino lo vuoi che non è morto e che che so dove vico a piedi vabbè andata piccola la moto un leone ancora lista un leone ancora lista diretti Ma veramente in quel parcheggio C'era veramente l'ira di Dio Poi spuntavano come niente gli zombie Cioè guardavi da una parte e non c'era nessuno Ti giravi nello stesso punto E vedevi sette zombie tutti insieme Che ti stavano venendo a prendere In un punto veramente ho rischiato di morire di nuovo Perché mi avevano accerchiato 8-9 zombie E poi me ne sono andato E li ho attirati in un punto In un punto con la mazza Meno male che non ha perso il vigore Se no ero morto Ma sono vicino a casa Ma non ha perso il prendere Ma sono vicino a casa Ma non ha perso il venero Ma non c'era finchè qua ne sta l'assaggio allora questo qui ah in tutto ti ho portato 17 di petrolio da tutte le macchine che ho trovato una batteria di sapore 1488 perché sono altri soldi a fammi vedere allora per fare quel il mucchio di polvere da spaufo non rompi vado come va a scarti non so come fa questo 4 litri di acqua allora vediamo mucchio di polvere d'aspetto ha detto agli esplosivi ok quindi mi manca solo un livello si vai ok ho risolto vediamo se lo posso fare si si lo posso fare adesso abbiamo il bonus quindi mi manca soltanto di trovare altro carbone altro sal nitro e ci regalano che dici? eh uff fatti zombie senti io mi devo portare le band che le snobbavo prima però mi rendo conto che le band sono molto più utili di quello che si dice gli antidolorifici si possono fare penso di sì no e invece ho sbagliato vabbè allora sal nitro ah già una la possiamo fare dai un mucchio di di coso già lo possiamo fare di polvere d'aspetto vedi ho qui già fatto mille mille cento di polvere d'aspetto ottimo allora mi manca un po' di carbone per no non gli do il carbone gli do il legno che ce ne abbiamo assai gli do un po' di di legno perché non mi apre la scatola no ok oh finalmente un bonus a nostro favore ok ragazzi se avete piaciuto questa puntata mettete un mi piace e iscrivetevi un saluto da me da rockin ciao ciao